Se una persona ha fatto un ciclo vaccinale di base da tre dosi, poi si fa un richiamo in dieci anni. Se invece uno non ha mai completato il ciclo vaccinale, deve ricominciarlo da qui. Facciamo un ritorno, dicono, un richiamo. Facciamo un richiamo, quando ti succede qualcosa, facciamo un richiamo del tempo. Se lei ha fatto le tre dosi anche trent'anni fa, adesso può fare una dose ogni di insieme, è sufficiente una.